salve a tutti nel tutorial che vi farò che vi mostrerò successivamente vedremo come si realizzerà questo progettino è un progettino fatto a maglia tubolare e a cosse uno a uno molto semplice e facile da utilizzare si inizia con dei ferri un po più piccoli rispetto a quelli che poi verranno utilizzati per lavorare la lana e in questo caso io proseguivo con un 4 e quindi avevo iniziato il tubolare con il 3 tutto qui vi lascio al tutorial come promesso vi faccio vedere come montare le maglie per fare un la maglia tubolare la maglia tubolare serve per avere un bordo molto elastico e di solito si usa per maglioni per la parte finale dei maglioni per poter iniziare è meglio scegliere sempre dei ferri almeno di una taglia più piccola rispetto a quelli che si può avere la lavorazione del tubolare stesso quindi io sto lavorando adesso con un 4 lavorerò poi dopo con un 4 quindi ho preso un 3 per fare questo intanto montiamo 20 maglie montiamo 20 maglie e nel modo solido adesso faccio un cappietto e montiamo 20 maglie così rivedete anche come si montano le maglie oddio scusate e poi proseguiamo in quest'altro modo faremo un tubolare per le cosse 11 sono leone anche contate poi le contiamo alla fine vediamo quante le abbiamo messe 1 io mi piace congressi mi piace è i 6 i 6 7 6 10 8 8 19 e 20 ora torniamo indietro e lavoriamo un ferro tutto al dritto vi ricordate il dritto si mette in fondo qui non c'è vivagno va lavorato e basta tutto quanto facciamo un ferro al dritto questo è il filo poi andrà tolto alla fine della lavorazione poi vi faccio vedere ora cambiamo il filo e montiamo quello che sarà poi quello definitivo del progetto ma a questo punto cambiamo anche ferri e facciamo un ferro sempre al dritto ok ho finito il primo ferro al dritto tiriamo un pochino queste bovine adesso iniziamo a lavorare il tubolare il tubolare come si lavora si lavora tutto al dritto al dritto passando però poi la maglia che si deve lavorare a rovescio senza lavorarla così poi si ripassa il filo sotto si fa di nuovo la maglia al dritto e si ripassa il filo sopra come per lavorare la maglia a rovescio ma si fa solo cadere dal ferro e così via per tutto il ferro al dritto al dritto al rovescio si passa 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 e così finiamo la lavorazione del ferro io sto sbagliando dritto al dritto e l'ultimo al rovescio si passa praticamente adesso ovviamente abbiamo finito con il rovescio proseguiamo con il secondo ferro il secondo ferro che avevamo finito con il rovescio e che quindi non avevamo lavorato a questo punto lo lavoriamo al dritto quindi passeremo questa maglia al dritto quella che invece avevamo lavorato al dritto non la passiamo cioè la passiamo e non la lavoriamo sempre al rovescio e così via praticamente abbiamo alternato la lavorazione delle maglie quelle che erano state lavorate al dritto quando si ripassa non vengono lavorate e vengono fatte cadere perché sono al rovescio che erano state lavorate al dritto non vengono lavorate al dritto non vengono e quindi passiamo a diretti che erano state lavorate al dritto non vengono ma E eccoci qui ancora con il ravescio. Avanti con il lavoro e ho praticamente fatto altri due ferri, ecco qui, non so se si vede questa lavorazione e come vedete è molto elastico, molto elastico ed è doppio. Adesso si mi rogo perché ho fatto pochi ferri, comunque è proprio doppio, ecco, vedete, si potrebbe pure passare, guardate vi faccio vedere, ci passo il ferro, vedete, proprio c'è uno spazio, ecco qua, cioè si potrebbe anche passare un elastichetto. Allora, adesso si può sia proseguire con il tubolare per qualche altro ferro oppure cominciare a fare proprio la maglia 1-1 che per le cosse e come dicevo per il bordo che va poi messo nei maglioni. Quindi proseguo con le cosse e vi faccio vedere. Ovviamente il dritto lo lavoreremo al dritto, il rovescio al rovescio. Ancora per qualche maglia lavoreremo, per questo ferro lavoreremo senza il divagno. E adesso lavoriamo tutte le maglie. C'è sempre questo fatto di portare il filo sopra e il filo sotto. Sotto quando si fa il dritto, sopra quando si fa il rovescio. Ecco qua. Li porto avanti per qualche altro giro e poi riaggancio il video. Ecco qua. Abbiamo finito di fare qualche altro giro. Come vedete già qui si comincia un po' ad allargare. Questo è molto elassi, lo vedete? Mentre qui sono 20 maglie praticamente. Qui in effetti ne abbiamo lavorate 10. Perché se contiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Quindi invece qui sono 20. Vedete? Perché c'è una dalla parte e una dall'altra. Vedete com'è elastico. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo ovviamente, quando abbiamo finito, dobbiamo ovviamente togliere questo filo che abbiamo utilizzato come, appunto, per iniziare il lavoro. In questa maniera lo togliamo. Eccolo qua. Sto proseguendo sempre con, togliere questo filo. Siamo arrivati alla figlia. Siamo arrivati alla figlia. Siamo arrivati alla figlia. E questo è il tupolare con le coste 1 a 1. Spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto che sia stata semplice la spiegazione per poter voi fare il vostro progetto. Un saluto e al prossimo video.